Il nostro tuo medium ci dia attraverso Corrado Piancastelli. Domanda. Nel 1945 per te c'è come dire un colpo di scena anche se previsto. Il nostro tuo medium inizia i contatti col tavolino e nel 1946 cade in trance. Dopo chissà quanto tempo hai l'occasione di rivolgerti ad un essere umano in modo verbale. La domanda ricalca la precedente. Quale fu il tuo primo coinvolgimento? Ci fu in te una particolare risonanza emotiva, ammesso che si possa parlare di emotività per uno spirito? Entità A. Devo dire che la prima volta che ebbi l'occasione di poter comunicare fui più che altro colpito dalle emotività, dalle sensitività dei presenti, dagli atteggiamenti mentali, sicuramente dalle paure, dalle ansie, dalle preoccupazioni. Fui colpito da quello che definireste le vostre anime. Cioè dal fatto che questi spiriti incarnati, cioè voi presenti, vi eravate modificati, eravate diventate anime e contemporaneamente anime e corpi. Perché questo? Perché per avvicinarmi e comunicare io stesso mi ero rivestito di un'anima, mi ero cioè ricalato nella materia, presentandomi con la voce, il linguaggio e la modalità con cui mi manifesto in questo momento, ma senza poter cogliere il senso emotivo dell'incarnazione. Dunque, il primo incontro fu tra le nostre anime e questa fu la cosa che in qualche misura mi colpì, nel senso che pur vedendo principalmente i vostri spiriti, di questi espressivamente, ne vedevo l'anima, che era quella che si muoveva insieme al corpo in quel momento. È una cosa abbastanza complessa. Tenete conto che le prime volte possedevo un vocabolario piuttosto grezzo e illimitato e che dovevo dare al linguaggio una sorta di taglio, che fosse anche psicolinguistico, affinché poi io partecipassi oltre che con la parola anche con qualche emotività espressiva, con qualche passionalità discorsiva, che insomma non fossi soltanto una asettica voce che stava lì a comunicare. Spero che possiate capire quanto intendo dire. Nel momento in cui parlo mi accorgo di dare delle intonazioni, di creare delle pause, di dare una passionalità, di dare un accaloramento, un calore, di sostenere con aggettivi certe proposizioni. La prima volta possedevo tutto questo in una maniera molto informale, molto atipica, forse anche non molto buona, e la prima cosa che mi colpì fu proprio il linguaggio di questi spiriti presenti, che era diventato già un linguaggio d'anima, cioè il linguaggio dei viventi con tutta la ricchezza sensoria, emotiva, partecipativa. Fu questo il primo incontro, al di là di quello che ci dicemmo, perché quello che potremmo dirci era di un valore secondario rispetto a questa prima esperienza diretta, che peraltro è la stessa di qualsiasi trapassato che ritorni per un qualsiasi motivo a contatto con l'uomo.